200 metri, peccato non ci possa essere Tortu Filippo Tortu che decisamente sarebbe un buon duecentista Qualche atleta protagonista ieri, nella finale dei 100 metri c'è, tipo Mario Burke, Barbados Non c'è il vincitore, ancora un 20-09, probantissimo, gli americani sono altri due Uno dei quali qui, pronto ad arrivare terzo 21-02 con più 1-3, niente di sensazionale Avrebbe stata una fatica in più, ma quest'anno parlo di Filippo Tortu Passa al vino, ha deciso di preservarlo, di concentrarsi sui 100 In una fase di accrescimento che qualche volta gli ha presentato i problemi I problemi che poi, per verità, saranno superabili con molta facilità Vladislav Grigoriev del Kazakistan, allora vittorio Ciao